Un BFDI dovuto ma non era prima Bukti BFDI Chi pensa che il Tacco è scema? Bukti BFDI È la più odiata in BFB Bukti BFDI La colline di l'audio ma non serve a proprio Bukti di BFDI Bukti BFDI Bukti BFDI Bukti BFDI Bukti BFDI Bukti BFDI Entrate nel mio club di Tacco 18 Ciao Bukti Sembra data dalla community Ma non te ne vai proprio eh Flower Quella diabla Over Raider Fastidiosa Senza senso Flower Hai detto qualcosa di male su di me? Se l'hai fatto e stai entrando in un mondo di sofferenza No? Beh Ok allora Perché sei qua? Beh io vivo nella casa delle Yates E allora perché sei qua? Penzel mi ha detto che sono una diabla E quindi mi ha buttato fuori Non potevo essere sorpresa Tu sei una diabla Quindi posso vivere con te affinché non ti ne vai per una terza stagione? No No Giuro sul mio corpo a mezzo mozzo che si sta ricoverando Buk Non eri mai così Non mi interessa Quindi tu vuoi lasciarmi sulla strada a farmi marcire e morire? Buk Pensavo eri migliore di così Mi sa che devo buttarti da lui per farti diventare capobranco Anzi no Eh già Devi farmi entrare Ok ok Dio santo Scusi Mi vuol dire gambare gambare senpai? Scunza e merda Ma come ti permette? Adesso Io amo questo programma Lo sai che è uno dei personaggi morto nella stagione 2? E che c'è una battaglia grande al finale della terza stagione? In realtà era un gioco Il Dio Anubi no Il Dio Anubi no Wow Non lo sapevo Il Dio Gale Ma a te l'ho scoglierato tutta la serie No ragazzuoli era Va bene nel senso E Anubis Non era una Oh mio Dio Questa cosa mi fa troppo ridere Ma faccio puzza Questa è la terza volta che avrei persone dei bleh Spaccato un muro Ora devi smetterla Cazzo no Prega Ciao book Lollipop mi deve aiutare Flower è venuta a vivere qua Nel blebber un po' di massa E sta rovinando tutto quello che faccio Dei spazzarmi di l'alto e pesto Quindi ti prego aiutami Ma pensa a Lollipop Parla ma nulla Se così ti capisco Ah Flower è venuta qui A abitare nei blebber Ok fermati Flower Quella diabla Overrated Fastidiosa In senso Flower Quello esattamente Quello che avevo detto A inizio episodio Ok Ci servirà un bel piano Qualche piano? Ho piani Dalla A alla Z E piano A eh? Step 1 Ci servono i fanno sufficienti A soffrire via Un appartamento di un piano Step 2 Mettiti tutte ad aree massima Così Flower diventa Tutta sciocata e sporcante Step 3 L'hai già fatto Infatti l'ho già fatto Cazzo Ora ci serve il piano B E qual è? Raffreddare la stanza Ho messo l'aria condizionata A meno 34 gradi Quindi stai attenta Ok Si sta facendo molto freddo Oh mio giardiniere Book Che ho una valenza E il ghiaccio è super torto E sta Facciando Oh mio giardiniere Oh mio giardiniere Yay Flavor è morta Ma come facciamo a seccare il ghiaccio Prima che qualcuno ci vedesse Buttare Flavor in una tomba Nello stesso tempo Oh cazzo Non ci ho pensato For Non ci ho freddo Non ci ho freddo Non ci ho freddo Eff Ma come facciamo a seccare il freddo So La No No Non ci ho freddo